Ben ritrovati e buon inizio settimana, anche quest'oggi il nostro consueto sguardo ai principali quotidiani locali e nazionali come ogni lunedì sui giornali tanto sport, quest'oggi poi tanta politica con il risultato del primario a Napoli. Il colpo di scena non ce la fa Bassolino, vedremo che cosa è accaduto anche a Battipaglia, parliamo naturalmente delle primarie del Partito Democratico, ma in questa nostra rassegna stampa vogliamo presentarvi una bella e importante iniziativa che si terrà nei prossimi giorni, parliamo di un'iniziativa internazionale che in provincia di Salerno si tiene solo a Vallo della Lucania. Grazie all'impegno del nostro ospite che passo subito a presentarvi, parliamo del dottore Giovanni Mugnani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, dottore, ben ritrovato, ecco io l'ho detto bene, è l'unica adesione la vostra in provincia di Salerno, per quanto riguarda, diciamo però di che cosa parliamo, della giornata internazionale del Rene. Sì, innanzitutto parliamo, giornata internazionale, cioè in tutto il mondo, il 10 marzo si celebra questa festa della prevenzione che io quest'anno voglio chiamare, che è la giornata mondiale del Rene, che ormai siamo giunti alla undicesima edizione internazionale. Io con molto orgoglio per il sesto anno organizzo l'evento Nefrologia a porte aperte, in quanto la società internazionale di nefrologia ci dà la possibilità di organizzare dei camper con la collaborazione della Croce Rosso italiana, ci dà la possibilità di organizzare anche degli eventi nelle scuole medie superiori con i ragazzi per far conoscere e per divulgare la cultura della prevenzione. Io invece da sei anni ho intrapreso la strada dell'apertura del nostro reparto, della nostra casa di cura in questo caso. Ecco, lo diciamo, l'abbiamo detto, si terrà presso la casa di cura Cobelis di Valvo della Lucania e in collaborazione con importanti partner. Innanzitutto con il laboratorio Schiavo che ci darà la possibilità di calcolare in tutti i soggetti che verranno sottoposti a questo screening assolutamente gratuito il GFR, che è il Glomerular Filtration Rate, cioè la velocità di filtrazione glomerare, ovvero come funzionano i nostri reni. Con un semplice prelievo ematico, con il dosaggio della creatinina plasmatica espressa in milligrammi decilitro, noi andiamo a calcolare con un'equazione matematica che sarebbe complicatissima da effettuare con una semplice calcolatrice, però con il software del dottor Schiavo noi calcoleremo il GFR a tutti coloro i quali si sottoporranno a questo screening gratuito. Chiaramente verrà effettuato l'esame delle urine, che è l'esame forse più semplice e banale, che da volta viene sottovalutato da taluni colleghi anche specialisti, che però diventa fondamentale per inquadrare un soggetto e per fare diagnosi di malattia renale. Verrà fatta anche chiaramente la visita con la misurazione della pressione arteriosa, con la misurazione della circonferenza vita, e sì perché l'obesità sta diventando insieme e unitamente alla sindrome metabolica, questo insieme di patologie, di sintomi e segni clinici che riguardano per esempio il colesterolo, i triglicedi, l'obesità centrale, la glicemia elevata con il diabete e l'acidurico elevato, sta diventando forse la principale causa di insufficienza renale e di ingresso in dialisi nel mondo occidentale, però anche i paesi orientali e soprattutto la Cina con l'esplosione industriale, sta diventando però anche un paese in cui c'è molta sindrome metabolica e c'è questa incidenza di insufficienza renale. Verrà fatta la visita, verrà presa queste misurazioni di peso corporeo, verrà misurata la circonferenza corporea, perché quello che è importante è capire se il soggetto ha obesità centrale, perché il vero fattore di rischio nella sindrome metabolica è la circonferenza vita, cioè l'obesità centrale. Verrà fatta una visita accurata e verrà fatta anche per quest'anno, nonostante le difficoltà, un'ecografia renale e vescicale, quindi sarà uno screening completo. A 360 gradi, parliamo di una giornata internazionale, c'è un importante testimonial, noi abbiamo diversi contributi video, vogliamo subito far vedere il video del testimonial, testimonial, o l'ha il video in cui si spiega meglio come si svolgerà la giornata? Sì, passiamo con Giacobbo che è il nostro testimonial ufficiale. Non ha bisogno di presentazione, è un conduttore Rai che si occupa proprio di ricerca, le sue trasmissioni sono rivolte ai bambini, perché l'edizione di quest'anno è rivolta in modo particolare ai bambini. Se riprendiamo il poster, il poster quest'anno è molto bello e ci fa capire che la prevenzione nasce già dalla tenera età. E questo perché? Perché si è capito dopo tanti anni che purtroppo le malattie renali colpiscono anche i bambini e colpiscono i bambini e sono asintomatiche, cioè se li porta avanti la malattia, va a progredire in modo asintomatico per arrivare poi all'età adulta con insufficienza renale e poi addirittura ha bisogno di dialisi. E allora bisogna fare presto, fare presto per prevenire, è il motto, lo slogan di quest'anno. E Giacobbo ci ha fatto il video. Ecco, vogliamo vederlo? Allora, se la regia ci propone il video proprio di questo giornalista Rai e poi torniamo in studio con il dottore Mugnani. Le malattie renali colpiscono milioni di persone in tutto il mondo, tra cui molti bambini, anche piccolissimi. Sono malattie insidiose che possono avanzare anche senza sintomi evidenti. Per questo bisogna controllarsi, c'è un'occasione, segnate questa data, 10 marzo, il prossimo 10 marzo. La Fondazione Italiana del Rene aspetta voi e i vostri bambini nelle piazze italiane per un controllo gratuito e per altre iniziative importanti. 10 marzo 2016, giornata mondiale dei vostri reni, dei nostri reni, pure i miei. Allora, 10 marzo, segniamoci tutti questa data, nefrologie, porte aperte presso la casa di cura Cobellis. Ci rivolgiamo ai genitori per avere, insomma, i bambini in quell'occasione presso la casa di cura, dottore. Con orgoglio che dico che quest'anno, a parte che sono arrivate già tantissime prontazioni e tantissimi giovani, la maggioranza sono giovani, che hanno cominciato a capire e a cogliere il vero senso della prevenzione. Quando è iniziato, qualche anno fa, c'erano gli anziani che aspettavano questo giorno per fare la visita, anche perché era gratuita e c'è una certa disponibilità che forse negli altri giorni non c'è, c'è meno fretta perché c'era uno screening, insomma, non era molto pubblicizzato. Adesso, quest'anno, siamo a circa 50 prontazioni e vi posso assicurare che il 90% sono ragazzi. Sono giovani che hanno familiarità per patologie renali, cioè hanno avuto il papà o hanno il papà in dialisi, o anche il nonno, lo zio, insomma, c'è una certa familiarità per la malattia renale, sono soggetti che sono ipertesi e che già sono in trattamento per l'ipertensione, quindi soggetti a rischio per le malattie renali. Ci sono dei diabetici, quindi, che vogliono sapere il proprio rene e come funziona, perché sanno che la malattia diabetica, purtroppo, in una certa percentuale di casi, circa il 40% dei casi, colpisce il rene. Cioè, dopo 8 anni di malattia diabetica, se mai non controllata, il rene si ammala. Ecco, i primi sintomi, dottore, quali sono i campanelli di allarme? È chiaro che lo screening è rivolto a tutti, però ecco... Ed è proprio questo il problema. La malattia renale, talvolta, anzi, nella stragrande maggioranza delle volte, come diceva l'amico Giacobbo, non dà sintomi. Quindi si arriva alla fase terminale, quindi nella fase avanzata, e nella fase in cui si è quasi da dialisi, no? Non ci rimane altro che la dialisi, senza sintomi. Per cui capita che si va al pronto soccorso, quindi per caso si scopre la malattia renale. E io, purtroppo, ho avuto tantissimi pazienti, troppi pazienti, anche giovani, che hanno scoperto per caso perché hanno avuto un mal di testa, perché è uscito il sangue dal naso... Per questo è importante la prevenzione. È importante la prevenzione per questo, perché si scopre troppo facilmente la malattia renale, per caso, per caso e al pronto soccorso, se mai, perché si ha avuto un mal di testa, si va al pronto soccorso, si fanno gli esami ed esce la malattia renale. Ecco, non c'è un'età, quindi lei dice prima si inizia meglio. Prima si inizia meglio, ma questo è proprio lo scopo, è il motto che ci dà la Federazione Italiana del RINE quest'anno. Allora, il patente che si rivolge e che approfitta di questa giornata viene sottoposto ad una serie di esami, come diceva lei. Poi, nel caso in cui dovesse uscire, ecco, un piccolo segnale, naturalmente sarà continuato, avrà comunque il supporto del reparto di nefrologia dell'ospedale? Beh, certo, è chiaro che il soggetto che avrà problemi o che scoprirà di avere problemi con questa giornata, verrà poi sottoposto a un follow-up, verrà preso in carico, come si dice, e verrà poi eseguito. Ovviamente noi abbiamo tanti modi per seguire i pazienti, grazie alla Casa di Curaco Babies, che svolge questo ruolo sociale da anni, dal 1948, e l'altro giorno proprio vedevo lo stemma sull'ingresso della clinica, nel 1948, io penso che per un cilentano, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare, ovvie considerazioni che si possono fare, sulla famiglia Goberi, bisogna andare fieri e orgogliosi di avere una clinica nel Cilento a disposizione del territorio, dal 1948, non è una cosa da poco. E senza farsi modesti, sono anche orgoglioso io di organizzare questa giornata del Cilento, perché se quest'anno siamo gli unici ad organizzare una giornata di prevenzione, io quest'anno la vorrei chiamare festa della prevenzione, perché se verranno tanti giovani, ci sarà anche una sorpresa nel corso della giornata, che poi chiaramente non posso dire qui, però se verranno tanti giovani sarà una festa della prevenzione. E se siamo veramente gli unici ad organizzare una cosa del genere in provincia di Salerno, vuol dire che realmente la casa di cura Goberi svolge un ruolo sociale insostituibile. Lei ha consapevolezza di quella che è la realtà del territorio cilentano, anche per quanto riguarda i patienti di cui lei si occupa. Ci sono dei dati, quanto la malattia renale è presente sul nostro territorio? Lei conosce i cilentani da nord a sud, è presente in tantissime realtà territoriali, ma quali dati ci può dare? Il vero problema del cilento, ma non solo del cilento, ma anche del sud Italia, è il diabete mellito e l'obesità, quindi la sindrome metabolica di cui parlavamo prima. C'è troppa sindrome metabolica, addirittura nell'età infantile, perciò la giornata del reine si rivolge soprattutto ai bambini, soprattutto per questa patologia, che ripeto poi è un insieme di patologie, tra cui il diabete, l'obesità, il colesterolo elevato, che già si manifesta nei bambini, per cui se noi a 10 anni abbiamo già un bambino che pesa 70-80 kg, è chiaro che stiamo parlando di un soggetto che ha il rischio di ipertensione, di sviluppare l'ipertensione anche precocemente, di sviluppare il diabete mellito, di avere quindi tutti quei problemi e quelle comorbidità che possono poi chiaramente causare malattia renale e quindi essere chiaramente sottoposti a delle cure specifiche come la dialisi. Se noi riusciamo a capire che in Italia abbiamo circa 50 mila dializzati, 50 mila dializzati, nel mondo ne sono milioni, siamo arrivati a oltre 2 milioni e mezzo, se voi pensate che nel 2004 eravamo a 1 milione e 8, nel 2010 a 2 milioni, sì, chiaramente c'è un aumento della malattia renale e ha bisogno di dialisi, in Italia siamo a circa 50 mila dializzati e nonostante vengono effettuati molti trapianti, perché noi abbiamo sempre il centro tre pianti di Sareno che funziona, abbiamo il centro tre pianti di Napoli in regione Campania, quindi abbiamo due centro tre pianti, nonostante i centro tre pianti in Italia e in Campania, gli dializzati sono in aumento e non riesciamo a fronteggiare nell'emergenza obesità e diabete, che sono realmente i nostri nuovi nemici che, ripeto, si sviluppano già nell'età infantile, per cui la prevenzione va effettuata nelle scuole, io ho fatto diversi convegni, l'ultimo a Sant'Arsenio, una scuola media superiore, dove mi volevano far fare il convegno sulla dieta mediterranea, io ho detto dove dobbiamo parlare di stile di vita mediterraneo e gli ho fatto vedere anche come si può effettuare lo stile di vita mediterraneo, perché lo stile di vita mediterraneo che poi è nato per definizione nel nostro territorio, è nato a Pioppi negli anni 50, negli anni 60 con Kiss e Stambler, possono essere da solo il vero elemento che ci fa fare la prevenzione, soprattutto nei bambini. Se noi inculchiamo nei bambini il concetto di prevenzione, il concetto di uno slogan, per esempio, della Società Italiana del Rene e della Società Internazionale di quest'anno, e muovi i tuoi piedi, e ci sono alcuni video che proietteremo dopo. Ecco, la regia, sì, se vogliamo proporlo adesso. Muovi i tuoi piedi, cioè il movimento, l'esercizio fisico dei bambini, fin da piccoli. Quindi alimentazione, esercizio fisico. Esercizio fisico, calo, ponderà, mantenersi col peso corporeo, fare un esercizio fisico anche quotidianamente, anche andando a scuola semplicemente, anche andando a scuola, oppure negli adulti, anche stando in ufficio, fare esercizio fisico anche in ufficio. Io, per esempio, cerco di prendere sempre la rampa delle scale di emergenza. L'euro sportivo, Doc. Ma si può fare anche, stando lavorando, si può fare attività fisica. È stato calcolato che si può fare attività fisica anche facendo il proprio lavoro, il proprio dovere, si può fare esercizio fisico e si possono bruciare anche, fino a 200 calorie al giorno. Che 200 calorie al giorno, però in una settimana, divengono un bel po' di calorie e cerco di far mantenere il peso corporeo. Tutto ciò andrebbe inculcato nei bambini. Grazie.